commerciale 90 2000 volume 35 mixa e seleziona cavaliere dj vai si parte si torna dietro del tempo si va a mondiali del 2006 attenzione attenzione alla testata di zidane materazzi stai attento e ci potrete anche riprovare nel 2010 vai che si parte con la voce bucchettina questa è per te Gesù 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 è caduto perché ho preso una testata la testata di eredità di zid 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 questo è ben di caglio per un gesto disgraziato di una rete assinata e vinciamo noi vai si vince mondiali il 2006 poi forse anche il 2010 speriamo crediamo per i nostri raggiunti un fuori anch' un fuori, 20 euro syme deve per i nostri raggi, chi si parte converge dei zidane devo Non è un sapato Adesso ridarci la nostra gioconda Perché siamo noi i campioni del mondo È nostra, è nostra voglia La gioconda Ma eh oh, quando l'hai già fatto? Adesso ridarci la nostra gioconda Perché siamo noi i campioni del mondo È nostra, è nostra voglia La gioconda Ma eh oh, quando l'hai già fatto? Vieni a tutto Mamma mia, cosa sento? Mi vengono grippiti con la schiena Sto prendendo bene anche i padiglioni auricolari Anzi, aprigliali anche voi! Commerciale 90.000, volume 35 Si va in pausa, in meno pausa Ci si carica ragazzi, attenzione peso Attenzione purpettino 87 Si dà di fuori DJ Calcola in X 2006 Asai! 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 Grita e seleziona cavaliere DJ. Mamma mia! Ai se sì! DJ Carbone X 2006. Vai di nuovo Pausa! Vai di nuovo Pausa! Vai di nuovo Pausa! Vai di nuovo Pausa! Vai che si plana, si decorla, si decorla! Vai si va! Come ciò? 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 Vai vai, ho dato di fuori, ho dato di fuori, camicia di forza, mio tanto bisogno, vai vai su! Ma ci cô trupe, ho dato di fuori, camicia di forza, mio tanto bisogno, vai vai, a sento, i vostri commenti, vostre votazioni, vostre inscrizioni, di aspetto numerosi. Pagli si ricarica, vogli cominciare alla grande, alla grande Sittina Giustotta, come on!